io ma tutto everyone benvenuti nel mio canale questo mauro che vi parla e oggi a grandissima richiesta andiamo a reagire al freestyle di baby gang presidente se non sbaglio questo quello che mi aveva detto che ha postato su instagram perché la major non gli lasciava non glielo lasciano pubblicare sulla sua pagina youtube non so non so confermatemi voi ragazzi comunque scusatevi in anticipo perché sto avendo un po di problemi col computer quindi se non posso postare tanti video come facevo prima è soltanto per quello però non vi preoccupate ci sto lavorando ci sto lavorando comunque basta perdere tempo questo è veloce un freestyle quindi non perdiamo tempo e vediamocelo dai mi presento signor presidente il nome è vero zaccaria sono io qua il presidente prendo mano presso l'italia e tiro fuori tutta questa gente visto che non c'è tutto in italia e poi vediamo che è il presidente sei mattarella o fra zaccaria bla da plomo plomo fuoco fis del pit o coprifuoco da quando ero pt coprifuoco manda fuoco la polizia sono qua e solo per la polizia non so manco che succede vedo sassi volare verso frate la stesse vedo ragazze arrabbiati che urlano con l'odio vaffanculo la stesse tengo nel capo la guerra lo stato cita il fumo e poi ci butta in cella tengo nel capo la guerra da quando il marescello mi ha tirato una sberla mi ha tirato una sberla io ho una testata mi sono trovato a terra faccia mia scassata sono venuti in trenta prima manganellata la seconda a terra ho la gamba sul collo mi respiravo poco era ancora un bambino per me era un gioco ora non è più gioco ora sono cresciuto ma voglio coprire poco quando usciro col disco ci sarò spingi poco mamma mia e in pratica in pratica dopo c'è da quello che mi sembra di capire ha messo ha fatto una canzone su quello che ha detto nell'intervista sulla sua sulla sua vita quindi per questo che probabilmente non glielo lasciano mettere su youtube c'è più che un'intervista ok però metterlo in una canzone che che può andare virale tutto quanto c'è anche l'intervista è andata virale però in una canzone è già diverso il concetto ovviamente la sua etichetta non vorrà prendersi la responsabilità cioè è normale è normale cioè fanno girare le balle queste cose ma è normale ognuno pensa nel suo migliore interesse niente è stata una canzone un freestyle di protesta ce l'avevo detta questa cosa che l'avevano menato in tantissimi l'avevano fatto ritornare in galera quasi senza motivo diciamo ho trovato una scusa per rimandarlo in galera non sappiamo sono cose brutte l'intervista l'abbiamo vista la potete anche trovare qui nel mio canale poi ho detto vabbè come per far vedere che alla fine c'è c'è il coronavirus non abbiamo questo problema ci lamentiamo tutti abbiamo i coprifuocchi e tutto quanto però lui l'ha vissuta molto peggio noi abbiamo la quarantena lui è stato in cella quindi è normale è normale dai è un pezzo di ci sta ci sta ci sta assolutamente capisco anche il motivo per cui non ha potuto postarlo su youtube niente ragazzi è sempre è sempre una figata reagire baby gang questo mi spacca tantissimo mi spacca troppo quindi continuate a consigliarmi le sue canzoni che ci andiamo a reagire a tutte non vi preoccupate comunque abbiamo finito anche questa reaction spero che vi sia piaciuto il video lasciate un bel like condividetelo con i vostri amici e ci vediamo alla prossima bella spero che ci vediamo alla prossima bella